Codice arancione dalle 12 alla mezzanotte di domani, domenica 22 settembre, su tutta la Toscana per piogge intense e temporali accompagnati da colpi di vento e grandinate. Lo ha emesso la sala operativa della protezione civile regionale in seguito alla intensa perturbazione che sta muovendosi dal Mediterraneo occidentale verso l'Italia. Il tempo sarà in peggioramento a partire dalla prossima notte, in mattinata soprattutto sull'arcipelago, sulla costa e sulle zone nord-occidentali. Nel pomeriggio forti temporali si trasferiranno dalle zone costiere al resto della regione, i fenomeni potranno risultare più frequenti sulla costa e sull'Appennino.